Musica Lunedì 29 aprile 2019, buongiorno, bentrovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei giornali che troverete oggi in edicola, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani locali, partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, si parla di Rigopiano, in questo caso polemica sui candidati, Farindola, uno dei comuni della nostra regione dove si tornerà il voto, Lacchetta, l'attuale sindaco, e Devico, l'ex sindaco del centro Vestino in Lizza, per il posto da primo cittadino il Comitato delle Vittime in Sorge. Vediamo poi il lunedì dello sport, si parla del Pescara in questo caso, Pilon, Coccola, Sottile, lui l'arma in più del Pescara nell'ultimo turno, nella gara pareggiata con il Verona, è arrivato il primo gol da professionista e dunque stagionale del figlio d'arte, Sottile, che è una delle note liete del Pescara delle ultime settimane, Pescara che ricordiamo giocherà sabato prossimo a Venezia alle 15, nella penultima giornata di campionato, il primo maggio invece ci sarà il turno di riposo per la formazione bianca-azzurra, si giocheranno le altre partite, i ragazzi di Pilon resteranno alla finestra. Vediamo le altre notizie, la Regione chiede aiuto al Governo, Gran Sasso, sveliamo la deribera di Marsilio, poi vedremo l'articolo all'interno del giornale, Pescara verso le elezioni, tutte ammesse le liste, a voto per il Comune si tornerà alle urne il 26 maggio e poi in Aia di oggi protestano lavoratori e famiglie, ci sarà la protesta, un sit-in davanti nei pressi della sede della Regione a Pescara in via Passo Lanciano e poi la cronaca, vandali minorenni bloccati in centro. Vediamo anche un'altra notizia di sport, di tennis, Stefano Travaglia conquista gli internazionali d'Abruzzo, di tennis, di Francavilla al mare. Vediamo in basso altre notizie, il piano della Regione, ipotesi commissario per le Asle, l'Aquila e Chieti, tempo quasi scaduto per nominare i manager e poi a Fossa, in provincia dell'Aquila, Chiese torna a risplendere, Santa Maria ad Criptas. Lasciamo la prima pagina di Pescara del centro, vediamo quella di Chieti Lanciano Vasto, scoperto la cronaca, il truffatore dei Rolex, Chieti vende orologi su internet ma non li consegna, a processo, un quarantenne. Vediamo le altre notizie, Bacri sequestrato un fucile durante la grigliata e poi da Lanciano a Roma, Ecolani il presidente in soccorso della Raggi. Andiamo poi a Basto, Dune spianate, Menna pronto a fare denuncia. Vediamo anche lo sport in primo piano, il basket, ottimo avvio nei play-off per la teata basket Chieti che ha abbattuto la formazione della Luis Roma. Vediamo poi il calcio di Serie D, la vastese cede all'Avenzano e la rivincita di Colavitto che per tre anni, per tre stagioni quasi, è stato tecnico della formazione aragonese. Vediamo anche la prossima pagina del centro che è quella di Teramo, la cronaca giudiziaria, in questo caso in apertura di pagina, in otto a processo per la discarica, amministratori e tecnici dell'Unione Comuni vibrata sotto accusa per il dopo chiusura. Vediamo le elezioni a Giulianova, Tribuiani punta su sicurezza e decoro e poi il cogevo tutelare l'attività di pesca dopo le opere anti-erosione, chiede l'Associazione dei Pescatori. Vediamo poi in basso Teramo, rievocazione storica, sfilata in costume per la festa della pace. In primo piano il calcio sulla prima pagina di Teramo del centro. Il Teramo è salvo con una giornata di anticipo nonostante la sconfitta maturata al Nero Rocco di Trieste. Al Giulianova basta un punto domenica prossima nella gara casalinga con il Cesena per ottenere la matematica salvezza e ai romagnoli. Basterà un punto per festeggiare il ritorno in Serie C. Vediamo anche il basket, colpo del Roseto nella prima gara dei play-off. La formazione rosetana ha infatti espugnato il palafacchetti di Treveglio per 75 a 73 al termine di una gara combattutissima. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Vezzano e Sulmona del centro. La neve cesi, scia fino al primo maggio. Campo Imperatore è l'unica stazione abruzzese con gli impianti aperti. Vediamo poi le notizie che arrivano dall'Aquila e dalla provincia. Partiamo dal capoluogo di regione. Vandali danneggiano la mostra del terremoto e poi ancora escono il sabato sera e i ladri rubano a casa. È successo a Bagno e poi Avezzano, azienda truffata, paga 200 mila Euro con l'assegno fasullo. Vediamo poi lo sport in primo piano con una bella notizia che riguarda il rugby perché l'Aquila conquista la salvezza e dunque la permanenza in Serie A. La Serie D, l'Avezzano sbanca vasto, abbiamo visto prima, il Luco De Marsi promosso nel campionato regionale di eccellenza. Luco De Marsi che ha avuto trascorsi anche in categorie superiori. Siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo, dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. La politica in questo caso nella parte alta della pagina con questo titolo che riguarda il bagno di folla per la sclocco, la candidata sindaco del centro-sinistra a Pescara. Si presenta alla nave di Cascela almeno 400 persone presenti. Albore Mascia di Forza Italia attacca sul fronte opposto. Mi aspettavo di essere il capolista. Invece così non è stato e dunque c'è questa polemica interna. Forza Italia ha poco più, a meno di un mese dalle urne. Vediamo anche l'articolo di spalla del lunedì sei imprese abruzzesi al Sial Expo di Toronto in Canada. Dunque si fanno onore, si faranno onore le aziende abruzzesi. Vediamo anche le altre notizie. Giulianova torna Salvini a sostegno di Tribuiani. E poi andiamo più in basso. Cruppi ha ucciso un solo colpevole. L'Aquila l'inchiesta per favoreggiamento verso l'archiviazione. A Pescara città devastata dalla Baby Gang 5 nei guai. Minorenni scatenati nel capoluogo adriatico nel weekend. Vediamo anche in basso Confindustria, un commissario per il Gran Sasso. Andiamo a vedere in alto invece i titoli di richiamo delle notizie e degli articoli di sport che troveremo all'interno del giornale. Rugby, l'Aquila sugli scudi, battuta la Capitolina. Serie B di calcio. Le altre rarrentano. Pescara verso i playoff a marcia ridotta. Tre pareggi nelle ultime tre gare. Serie D. Avezzano e Giulianova si aggiudicano i derby. Tra l'altro giocate in trasferta e vedono la salvezza più vicina. Soprattutto il Giulianova a cui, come dicevamo, basterà un pareggio per salvarsi. L'Avezzano dovrà abbattere il Pineto nell'ultimo turno e sperare anche in qualche passo falso delle dirette concorrenti. Lasciamo le prime pagine di quotidiani abruzzesi. Siamo l'edicola nazionale. Iniziamo, come di consueto, con il Corriere della sera. Il titolo dedicato alle elezioni spagnole. I socialisti primi in Spagna ultradestra al 10%. Vedete nella foto il leader del partito socialista Sanchez festeggia insieme alla moglie e ai supporter la vittoria. Vediamo poi più in basso Di Maio ultimatum su Siri. Ipotesi di missioni a tempo per il sottosegretario. Il Premier la tenuta dell'esecutivo. Ha detto Conte. Non si discute. Non può restare. Mi fido di Conte, aggiunge Di Maio e chiede un vertice a tre con Salvini. Vediamo la Repubblica. La Spagna è socialista, ma sbuca l'ultradestra. Questo è il titolo di apertura del quotidiano romano. Partito socialista al 29%. Il primo partito, ma non ha la maggioranza. Il Premier Sanchez servono i voti di Podemos e degli indipendentisti. Per la prima volta l'ultradestra di Vox, con il 10%, entra in Parlamento. E poi parla il Presidente della Camera Fico, un sì forte alla Commissione per cercare, dice la verità, sul Reggeni. Oggi la discussione alla Camera. Spuntano nuovi ufficiali coinvolti nella morte dello studente italiano. Vediamo anche in basso una notizia che riguarda la Francia. Macron in cerca di consenso chiude la scuola dell'elite. Lasciamo il quotidiano alla Repubblica. Siamo al fatto. Il reddito è un record. Siamo a 2 milioni di poveri in due mesi. Il fatto intervista il Presidente Ips e siamo solo all'inizio. Poi vediamo anche sul fatto quotidiano la notizia delle elezioni spagnole. Sanchez nelle mani degli indipendentisti. vediamo il giornale. Immigrati, ecco le carte. Una toga allertava Lucano. Scandalo accoglienza. Un giudice, scrive il giornale, dava suggerimenti all'ex sindaco di Riace, eroe della sinistra. E poi Spagna, la prima volta dell'ultradestra. Vedete il titolo più in basso. Primo il Partito Socialista. Scendono i popolari. Vox, ovvero l'ultradestra, conquista il 10% delle preferenze. Il mattino di Napoli. Cutolo dice che la verità poteva trovare Moro. Alemi, il magistrato che indagò sulla trattativa tra Brigate Rosse, DC e Clan per Cirillo. Il boss aveva le conoscenze per indicare il covo. Salvò anche Calvi in cella. Dunque questo è l'articolo che riguarda queste rivelazioni sul caso Moro. Torniamo indietro in questo caso davvero di tanti anni, in uno dei momenti più difficili per il nostro Paese. Vediamo poi in alto due titoli. Il primo che riguarda la politica. I socialisti risorgono in Spagna, popolari KO. E poi Cori ingrati. Parliamo del Napoli sul quotidiano Partenopeo. La curva rifiuta la maglia di Caillon dopo la vittoria. Tensione in casa Napoli, nonostante la vittoria di Frosinone con i tifosi che, come abbiamo visto da questo titolo, hanno rifiutato la maglia del giocatore del Napoli. Siamo alla prima pagina nazionale del messaggero. Autonomia no al blitz della Lega. Di Maio non spaccheremo l'Italia e attacca sul caso Siri. L'ipotesi delle dimissioni a tempo. E poi, autoblu in aumento, ma il censimento è rimasto top secret. Il parco mezzi dello Stato a quota 33.500. Il rapporto fermo al Ministero da un mese. Vediamo anche il calcio in questo caso in primo piano. Caicedo lancia la Lazio 2-1 la Sampdoria. Milan-KO a Torino. Più che mai aperta la lotta per il quarto posto, in attesa anche della gara dell'Atalanta di questa sera. Siamo a Libero, non c'è più religione. Scrive Libero, il Papa porta aperte i libici. A Tripoli è tornata la guerra e il Papa Francesco invoca la creazione di corridori umanitari per portare via tutti i profughi dai campi del Nord Africa. Vediamo anche il Sole 24 ore, la prima pagina del giornale oggi in edicola. Il mattone paga al fisco un superconto da 40 miliardi e poi spesa pubblica si taglia solo l'1%, scrive il Sole 24 ore, nell'ambito della spending review. Vediamo anche la stampa di Torino. PD del Rio apre alla linea di Maio. L'ex ministro discutiamo partendo dal salario minimo. Casso Siri, leghista, pronto a sospendersi. Poi vedete anche sul quotidiano torinese. Spagna e socialisti vincono. Governo con Podemos. Destre, boom. Il tempo di Roma, come non farsi spennare al mare. Dossier litorale del quotidiano capitolino. Poi vedete la foto che riguarda il calcio. La Lazio, Ciro a secco, ci pensa Caicedo. Lazio ok al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Vediamo anche il quotidiano La Verità. Missione segreta. Renzi d'Arabia, il mistero del 25 aprile con il regime saudita. Questo è il titolo di apertura. E poi Sanità malata, così rubano sulla nostra pelle. Articolo che riguarda la sanità. E poi in basso, vedete un altro titolo, arriva un nuovo diritto, morire di sete. Il dizionario di Silvana, quest'altro articolo nella parte bassa della pagina della prima pagina del quotidiano La Verità. Il secolo.it, compagno smemorato, scrive il quotidiano vicino alla destra. Zingaretti fa il professionista dell'antimafia, va in Sicilia, in Campania, ma dimentica la ciociaria, scrive il secolo.it. L'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ora torniamo invece sulle pagine del centro per tornare a parlare delle notizie in chiave locale. Partiamo dalla notizia che riguarda il Gran Sasso, la richiesta di aiuto al governo acqua a rischio. Ecco la delibera che la Giunta approva oggi. E poi il sottosegretario, Gianluca Vacca, sottosegretario di governo del Movimento 5 Stelle, ribatte agli ambientalisti. In basso si parla di porti, mai spedita l'intesa a Bruzzo Lazio negli uffici del Ministero dei Trasporti, non c'è traccia del documento del 2016. L'iter va ripreso. Anche questa è una diatriba che si protrae da tempo perché c'è chi vorrebbe quest'intesa a Bruzzo Lazio e chi invece preferirebbe un'intesa a Bruzzo Marche con il porto di Ancona in questo caso. Siamo a pagina 3, i nodi della sanità. Manager Asl si fa strada, il commissariamento, tempo quasi scaduto per la scelta su 39 nomi dei due direttori generali di Chieti e l'Aquila, ma la Regione non ha incaricato la commissione d'esame. Lo scenario è chiaro. Proseguiamo, siamo alle pagine dalle province, ovviamente come ogni lunedì anche sui quotidiani locali c'è grande spazio per lo sport e dunque meno pagine per quanto riguarda la cronaca, la politica e tutto il resto. Siamo infatti già alle pagine delle province. Partiamo da Pescare, il comune più importante della nostra regione dove si andrà al voto il 26 maggio. Liste candidati tutti ammessi via la campagna elettorale. Sono ben 8 i candidati a primo cittadino, Carlo Masci, Marlenella Sclocco, Carlo Costantini, Gianni Teodoro, Stefano Civitarese, Erika Alessandrini, Gianluca Baldini e Mirko Iacomeli tutti in questa foto. Ieri c'è stata tanta gente alla nave di Cascella per l'incontro della candidata del centro-sinistra, ex assessore regionale Marinella Sclocco, che dice sarò la sindaca di tutti e voglio il comune nei quartieri. Verso le comunali parla il candidato del centro-destra, Carlo Masci. La diga diventerà un molo per passeggiare incontro tra il candidato e gli aspiranti consiglieri del centro-destra. Siamo una squadra molto forte. Ecco le regole per vincere al primo turno, ma non manca una polemica proprio all'interno del centro-destra e soprattutto in particolare di Forza Italia. Luigi Albo Remascia, ex sindaco di Pescara, dice Forza Italia non mi ha voluto come capolista e dunque c'è questa polemica interna proprio al partito. Vediamo poi in basso Costantini, ho una coalizione di civica, il selfie del candidato sindaco, dell'altro candidato sindaco di Pescara. Da Pescara a Montesilvano, perché il secondo comune più importante dove si andrà al voto è Montesilvano, che di fatto è la seconda città abruzzese per residenti dopo aver superato quota 60 mila. Consiglieri sfida tra padre e figlio e passaggi di testimone in famiglia, queste alcune delle curiosità per quanto riguarda le elezioni di Montesilvano. Vedete Agostinone padre, Agostinone figlio, sono due dei candidati per quanto riguarda proprio anzi, Agostinone figlio candidato, mio figlio candidato, non lo sapevo, dice Sergio Agostinone, il papà. Vediamo anche le comunali nell'area vestina in Val Pescara, perché soprattutto a Farindola dove si tornerà al voto c'è anche una polemica, lo leggiamo qui dalla pagina 14 del quotidiano Il Centro, il comitato vittime di Rigopiano dice inopportuno candidare Lacchette e De Vico, sindaco ed ex sindaco, sono a capo delle due liste in corsa alle prossime votazioni di Farindola, lo sfogo di Marco Foresta che a Rigopiano ha perso i genitori avrebbero dovuto, dice il giovane, farsi da parte. Vedete poi più in basso di Marco, la mia candidatura è legittima, replica dell'ex presidente della provincia di Pescara al ricorso in prefettura della lista avversaria e sul rigopiano il procedimento, dice, è in corso. Andiamo avanti, parliamo ancora, lasciamo la politica, parliamo invece della vicenda naia di perché oggi andrà in scena la protesta di lavoratori e famiglie dipendenti del progetto Sport, della Sport Life in via Passo Lanciano per chiedere alla regione chiarezza sul futuro della struttura e dei posti di lavoro. Ci sarà questa manifestazione nel pomeriggio. Vediamo anche una notizia di cronaca che arriva da Pescara, fermati i minorenni ubriachi, danneggiata una macchina in alto, grande successo, oltre 200 partecipanti al tour dei ponti di ieri a Pescara e a proposito di biciclette un ciclista di 64 anni è rimasto ferito ieri in un incidente stradale accaduto lungo la strada che da Scafa porta a San Valentino, più che incidente stradale si è trattato di un incidente diciamo che ha visto che ha coinvolto solo il ciclista che ha perso il controllo della bicicletta è finito fuori strada e è stato trasportato poi in elisoccorso all'ospedale di Pescara. Vediamo anche la prossima pagina che ci porta a Chieti, l'inchiesta sul truffatore dei Rolex su internet, scoperto l'imbroglio, vende un orologio a 1390 euro ma non lo consegna e fa perdere le tracce, quarantenne di Bucchianico, finisce a processo, finto nipote inganna anziana e badante le due donne pagano 600 euro per un pacco che pensavano ordinato dal parente, caccia ai malviventi. Perquisizione alla festa di compleanno, fucile sequestrato durante la grigliata, Vacri denunciato un pensionato al pranzo dei 70 anni, arrivano i carabineri e scoprono l'arma detenuta illegalmente. Ecco l'anno, il Presidente dice sì alla Raggi, siamo a Lanciano, Ranieri pronto a gestire l'emergenza rifiuti di Roma, domani ci sarà la risposta definitiva. Andiamo poi a Vasto, parte bassa della pagina, il Sindaco Menna, d'une spianate pronta alla denuncia, le ruspe nella riserva di Vasto per realizzare campi di bicivole, il Sindaco no a danni sulla spiaggia. Vediamo anche la pagina che riguarda l'Aquila, in questo caso si parla di neve, di campo operatore e degli impianti aperti. Gran Sasso si scia fino al 1 maggio, è l'unica struttura ricettiva nella nostra regione dove c'è ancora neve a sufficienza sulle piste e dunque per poter sciare. L'ultima a cadere in ordine di tempo è stata la Maielletta, turismo lento da Roma antica all'Aquila, presentato il sentiero di 430 km da fare a piedi che attraversa 42 comuni e 7 parchi naturali. Vediamo in basso altre iniziative che ci saranno il 1 maggio e che invece si sono tenute nelle ultime ore. Partiamo dal rito di Cocullo, festa dei Serpari, ci sono delle novità, la manifestazione che si terrà il 1 maggio nel centro provincia dell'Aquila e poi Tagliacozzo in 3000 alla festa del Volto Santo, il rito religioso è stato presieduto dal cardinale francese Mamberti. Proseguiamo, vediamo l'altra pagina che ci riporta all'Aquila, si parla del decennale del terremoto, è stata danneggiata la mostra del terremoto, colpite le gigantografie che ritraggono i volti della deputata Pezzopane e del sindaco Biondi, Grillo dice uno sfregio al sisma. Vediamo poi la cronaca che ci porta a Bagno in provincia dell'Aquila, escono il sabato sera, i ladri svuotano la casa e poi truffa ad azienda petrolifera a giudizio, Avezzano imprenditore nei guai, l'accusa ha pagato 194 mila Euro con un assegno dichiarato smarrito. Vediamo anche la pagina che ci porta a Teramo e in provincia a Sant'Omero, in questo caso in 8 finiscono a processo per la gestione della discarica. Giulianova Castrum, in aula il consulente tecnico della procura. E poi in basso le elezioni a Giulianova, Tribuiani punta su sicurezza e decoro, Marsilio lancia il candidato di centrodestra, volontari addestrati per controllare la città. Siamo alla pagina, un'altra pagina che riguarda Teramo e provincia in questo caso, traforo, costruttori contro la chiusura, gallerie vietate dal 19 maggio, le ripercussioni, l'ANEM minaccia di impedire il provvedimento. E poi più in basso, i nuovi lavori devono tutelare la pesca. Siamo a Giulianova, il cogevo, sugli annunciati interventi anti erosione dice, bisogna salvaguardare le specie ittiche. In basso, rievocazione storica tra le vie del centro di Teramo, festa della pace, tra suggestione e pochi. Spettatori, siamo arrivati allo sport, allora possiamo passare alle pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero, poi parleremo nella seconda parte in maniera ampia come ogni lunedì di sport. Ripartiamo da Pescara, acque pulite, sicurezza e sociale, sclocco, carica il centro-sinistra, il candidato sindaco ieri ha incontrato i cittadini alla nave di Cascella. E poi ritroviamo anche sul messaggero la polemica di Luigi Alboremascia, dell'uso della Forza Italia, l'ex sindaco contrariato per non essere stato inserito come capolista. E poi la cronaca in questo caso invece ci porta, ci lascia ancora a Pescara, calci alle auto in sosta, baby gang di ubriacchi bloccata dalla polizia e poi in 200 al tour dei ponti con FIAB, Pescara, bici. Siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero, Santa Maria ad Cryptas, già tante richieste per i matrimoni, partecipata a cerimonia ieri per la rinascita della Chiesa dopo i danni del sisma, simbolicamente riaperta proprio nell'anno del decennale. Vedete nella foto la presenza proprio all'interno della Chiesa del Cardinale dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi. Ancora l'Aquila, Parco del Sole, i giochi di nuovo imbrattati, la denuncia dell'ennesimo raid vandalico arriva dall'associazione Mamme per l'Aquila. In basso, Casoleccese non ci fu favoreggiamento. E poi Torrione, da oggi la chiusura di alcune strade per lavori. Andiamo avanti, siamo alla pagina della provincia dell'Aquila, partiamo dalla parte alta della pagina, la cronaca perseguitata al telefono per la politica. Dopo la denuncia di una rappresentante dell'Italia dei Valori, la polizia stradale scopre gli autori delle vestiazioni via cavo. Il suo numero di telefono scritto sui luoghi più frequentati dell'autostrada, tante le chiamate, ma due sono stati identificati. Avezzano, stazione, nei giardinetti scoperta, ancora droga. E poi Pettorano sul Gizio, l'Orsa Peppina è già nel suo habitat naturale. Vediamo poi a centro pagina notizie che arrivano sia dalla Valle Peligna che dalla Marsica. Torniamo a Sulmona, il parco fluviale da olio chiuso da due mesi, ancora Sulmona, musica oltre le sbarre, il concerto in carcere. Poi Avezzano, oggi si terrà l'atteso consiglio comunale sul mercato, si parlerà anche dell'ipotesi di varare una nuova giunta municipale. Proseguiamo, pagina di Chieti del messaggero, Ruspe alla Berardi, a suo posto uffici, carbinieri e finanza, un edificio in acciaio ospiterà la ragioneria dello Stato, la sala operativa della Prefettura e l'aula magna del liceo. Lanciano al detitta, fermi premio agli alunni giornalisti. E poi Ortona, un'area giochi nel parco grazie all'Innerwell, finanziamenti per il Ciavocco. E poi andiamo in basso a Vasto, viabilità, vertice con i commercianti, soprattutto per quanto riguarda la marina di Vasto, la parte bassa della città. Siamo alla pagina di Teramo, sempre del messaggero. Gran Sasso, Confindustria favorevole al commissario, il Presidente Ballone cerca di sventare la chiusura del tunnel dal 19 maggio. Il nuovo soggetto si assumerebbe il compito di risolvere la crisi idrica. E poi vediamo la pagina di Giulianova, le elezioni nel città giuliese. Torna Salvini per sostenere il candidato del centro-destra, Tribuiani. E poi Alba Adriatica, spazi sosta preparativi. Per l'estate, Tortoreto Record, arriva la ventitresima bandiera blu per la cittadina costiera in provincia di Teramo. Torniamo invece a Giulianova per parlare del primo maggio, perché a Giulianova, proprio nel giorno della festa dei lavoratori, ci sarà la manifestazione provinciale. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Allora, prima di fermarci per qualche istante, possiamo andare a vedere insieme i titoli e le prime pagine di Gazzetta Corriere e Tutto Sport. Partiamo dalla Gazzetta, Toro d'Oro, il Milan incornato Europa, a rischio per i rossoneri che continuano ad attraversare un periodo davvero negativo. Le reti della formazione Granata sono state realizzate da Belotti e Berengher. Rabbial Max, il tecnico della Juventus, re dei risultati, punge in contropiede. Questa è l'ora di chi sa giocare bene. E poi, Inter, Spalletti ha deciso, duello Icardi-Lautaro, fino a fine campionato. Vediamo anche il Corriere dello Sport, paura di perderlo. Ropa ancora quarta e con la febbre Conte, ma occhio all'Inter. In alto parliamo invece del Milan, perché dopo la sconfitta di Torino con i Granata, Gattuso è a rischio, potrebbe addirittura saltare la panchina del tecnico milanista. Questa sera in campo l'Atalanta alle 19.00 dovesse arrivare un successo di Enerazzurri. Per il Milan il quarto posto si allontanerebbe. Ulteriormente parliamo anche del Napoli, lo strappo di Napoli, perché la squadra, nonostante la vittoria di Frosinone, è stata contestata dai tifosi. Chiudiamo con Tutto Sport, lassù qualcuno vi ama, Toro da Champion, poi Max, le due verità, Allegri e il futuro, ecco che cosa può succedere sul futuro della formazione bianconera, ma soprattutto sul futuro del tecnico Massimiliano Allegri, che dovrebbe restare, c'è stato l'annuncio della società, anche le sue parole, però potrebbe anche accadere qualcosa al momento di difficilmente ipotizzabile. Allora possiamo fermarci in questo caso dopo aver visto le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali per qualche istante, poi torneremo in studio, la seconda parte di mattino 6 interamente dedicata allo sport regionale, andremo a vedere i servizi delle gare di calcio di ieri. Nei campionati di Serie D vedremo anche le immagini della sconfitta del Teramo a Trieste. Di nuovo in studio parliamo ancora di sport, lo faremo per tutta questa seconda parte di mattino 6, torniamo alle pagine del centro, prima di parlare del Pescara di Serie C e di Serie D vediamo qualche pagina che riguarda il massimo campionato, la corsa alla Coppa dei Campioni, il Toro corre in corna, un Milan in fase calante, ieri sera 2-0 per i Granata contro i Rossoneri, abbiamo visto prima panchina di Gattuso anche a rischio in questo caso. E poi Lazio che passa per 2-1 a Genova con la Sampdoria, Caicedo rilancia i Bianco Celesti per la Sampdoria, Europa lontana. E poi pareggio tra Spal e Genova, la Padula, l'ex Biancazzurro torna al gol, Genova respira, formazione Spallina salva. Vediamo anche l'altra pagina, vittorioso e contestato, Napoli non sa sorridere, passa per 2-0 a Frosinone, ma tifosi che contestano squadra, società e tecnico. Parma pari salvezza, D'Aversa rinvia il futuro 1-1 per i gialloblu a Verona con il Chievo già retrocesso, davvero un grande risultato quello raggiunto dal tecnico pescarese del Parma, D'Aversa. Vediamo anche, proprio grazie a questo specchietto del centro, i risultati della giornata di ieri nel campionato di Serie A con la vittoria di ieri, dei risultati anche degli anticipi, la vittoria del Bologna con l'Empoli 3-1, Roma-Cagliari 3-0, Inter-Juventus 1-1, Frosinone-Napoli 0-2, Chievo-Verona-Parma 1-1, Spal-Genua 1-1, Sampdoria-Lazio 1-2, Torino-Milan 2-0, questa sera alle 19 Atalanta-Odinesi alle 21, Fiorentina-Sassuolo. Vediamo la prossima pagina, la prossima pagina che riguarda il Pescara perché l'ora di Sottil, in questo caso è arrivata nel match con il Verona, è giunto anche il primo gol tra i professionisti del Figlio d'Arte, Piloni incrocia le dita perché Mancuso è a digiuno ormai da diverse settimane e il Figlio d'Arte segna il primo gol, l'Under 20 vuole portarlo al Mondiale, ma per il Pescara questo potrebbe essere un problema in chiave, play-off e intanto Memuschai salterà Venezia perché è stato monito nella gara di sabato scorso con gli Scaligeri, era diffidato e dunque salterà il match del Penso, Gravion è pronto invece al rientro, potrebbe giocare dall'inizio, Brugman punta proprio il Venezia, prendiamoci play-off, gara difficile quella di sabato per i Biancazzurri in Terra Veneta, vediamo cosa è successo ieri nelle gare disputate nella giornata domenicale con la vittoria del Lecce per 1-0, grazie a questo successo i giallorossi raggiungono i Lombardi in testa alla classifica, ieri allo stadio di Via del Mare c'erano quasi 25 mila spettatori e poi pareggio a suon di gol tra Cittadelle e Ascoli, Marchigiani in vantaggio per 2-0 raggiunti poi dai Veneti e poi il successo della Cremonese sul Foggia per 1-0, Lombardi, Grigiorossi che inguaiano i pugliesi ma soprattutto sognano un clamoroso rientro in zona play-off, siamo al Teramo, Teramo battuto ma è finalmente salvo, la certezza matematica arriva dopo una prova generosa e sfortunata, il diavolo tiene testa alla Triestina fino alla fine, vediamo anche il messaggero in questo ping pong che facciamo tra i due quotidiani per vedere come si commentano le varie vicende delle formazioni abruzzesi, vediamo il Pescara, Pescara ha troppe occasioni fallite, andamento lento in zona play-off, i biancazzurri non vincono da 4 turni, 3 pareggi nelle ultime 3 gare e la qualificazione a marce ridotte per i guai di Verona, Perugia e Cittadella perché se il Pescara non vince non vincono anche le dirette concorrenti, sottile lotteremo fino alla fine per la Serie A, dice il figlio d'arte e poi un bicchiere da giudicare mezzo pieno per il Pescara che era partito, bisogna anche ricordarlo sicuramente non con l'obiettivo dichiarato di raggiungere i play-off che sono molto vicini e siamo di nuovo al Teramo, il Teramo è salvo nonostante il K.O. di ieri a Trieste finisce per 3-2 in favore dei padroni di casa, la gara giocata al Nereo Orocco, è un successo quello della Triestina che però serve a poco per i Giuliani perché il Pordenone è stato promosso direttamente in Serie B e dunque la Triestina dovrà giocare i play-off. Con l'aiuto della regia possiamo andare a vedere le immagini della gara giocata ieri pomeriggio in terra giuliana, ecco qui l'ingresso delle squadre in campo, Triestina in maglia bianco-rossa, vedete subito in avanti la squadra di casa e c'è il rigore segnato dal direttore di gara con la rete del vantaggio segnata da Granoce al quindicesimo del primo tempo, poi vedete la reazione del Teramo, c'è il pareggio della squadra ospite con Fiordaliso che va a festeggiare sotto il settore dei propri tifosi ma la Triestina non ci sta e si porta poco dopo sul 2-1 grazie al gol di Costantino, 2-1 dunque vedete l'esultanza del giocatore di casa e poi arriva alla fine del primo tempo anche il gol del 3-1 segnato da Petrella, il classico gol dell'ex, poi nella ripresa il 3-2 del Teramo con la rete di proietti al 46esimo agevolata anche da una deviazione, partita che si chiude con il risultato di Triestina 3, Teramo 2 e Teramo che comunque è salvo. Vediamo anche nei dilettanti questo trafietto che riguarda l'Aquila perché l'Aquila costretta a rinviare la festa, lo champagne deve restare ancora in frigo per almeno tre giorni perché infatti ieri il Pizzoli ha vinto 3-0 in casa della Feder Libertas Bugnare e così ha bruciato il primo match point dei rosso-blu di Cappellacci ma ovviamente è solo questione di tempo per l'Aquila che potrebbe festeggiare già da tre giorni il ritorno, la promozione e dunque il passaggio proprio nel torneo regionale di promozione. Torniamo al centro per vedere restando in casa Teramo i risultati della giornata di ieri nel girone B con Imolese sud di Tirolo 2-0, Monza Fermana 3-0, Pordenone Gianerminio 3-1, Friulani promossi in serie B, Renate Feralpi Salò 2-3, San Benedettese Cubbio 3-1, Ternana Ravenna 1-0 e poi Vicenza Fano 2-0, Virtus Verona Albinola F1-2, Vispesaro Rimini 0-0, Maurizzi al 91esimo, queste le dichiarazioni del tecnico non era facile farcela in questo girone. Siamo alla pagina dedicata alla serie D, primo piano dedicato a uno dei due derby giocato ieri nel girone F con la vittoria dell'Avezzano che ha sbancato lo stadio Aragona di Vasto per 2-1, decide un gol di Daniel Di Nicola, 8 minuti dalla fine, un superfanti blind risultato, Biancolossi costretti a vincere Dagnone per scacciare l'incubo play-out. Vediamo anche il messaggero, messaggero che parla ovviamente anche in questo articolo del derby giocato ieri all'Aragona, Avezzano vince il derby, ora la vastese rischia ma noi andiamo a vedere il servizio sul successo dei Biancoverdi in casa della formazione adriatica. Ritorno migliore per Gianluca Colavitto a Vasto proprio non poteva esserci, al cospetto della squadra che aveva guidato per tre stagioni, il tecnico di origine campana, oggi sulla panchina dell'Avezzano ha ottenuto una vittoria pesantissima che permette ai Biancoverdi di poter ancora sperare nella salvezza diretta in vista dell'ultimo turno che vedrà al Dei Marsi di scena il Pineto. Padroni di casa senza Iarocci e Palestini ed in campo con il 5-4-1, Marsicani che rispondono con il 4-3-3 e con un 11 molto aggressivo, all'appello fra gli ospiti mancano Kras, Padovani e Bisegna. Qualche tensione sugli spalti con Cori e Sfotto fra le due tifoserie, imponente il servizio d'ordine all'esterno dello stadio. Prima della gara premiato con una targa ricordo Franco Nardecchia, dirigente della vastese per i suoi 50 anni di lavoro nel calcio. Applaudito dai tifosi vastesi il tecnico Avezzanese Colavitto al suo ingresso in campo, un migliaio gli spettatori presenti, fra cui una sessantina di supporters Marsicani. Prima emozione della gara al tredicesimo con un colpo di testa al lato di poco di stivaletta. La squadra ospite, molto compatta, concede pochi locali e si rende minacciosa al ventiquattresimo con un traversone che attraversa tutta l'aria bianco-rossa prima della conclusione di Di Renzo che mette a lato. Dopo diversi minuti di equilibrio e di scarse emozioni, al quarantunesimo gridano al gol i tifosi di casa, ma sul tiro di Leonetti Fanti respinge il pallone, ribattendo poi con le mani anche il tap-in ravvicinato di Palumbo. Gol mangiato, gol subito con la rete ospite che arriva al quarantasettesimo quando Besana a due passi da Patania dopo una respinta dell'estremo aragonese su tiro di De Rocci, se non sbaglia, per il gol del vantaggio dell'Avezzano. Grande l'entusiasmo nella curva dei tifosi ospiti. Nella ripresa si ricomincia con l'Avastese in avanti, al terzo Leonetti pressato e da posizione defilata mette a lato. Preme la squadra di Aldo Papagni, ma gli ospiti controllano senza grandi sofferenze. Al diciassettesimo Leonetti trova anche il gol del pareggio, che viene però annullato per posizione di fuorigioco dello stesso giocatore Vastese. Con Sciba in campo al posto di Russo, i padroni di casa passano al 3-4-3. La formazione adriatica attacca senza però mai rendersi veramente pericolosa e anzi al venticinquesimo sono i biancoverdi in contropiede a mancare il gol del 2-0. Sul capovolgimento di fronte poi invece arriva il pari della formazione di casa con Stivaletta, che approfitta di un errore della difesa vezzanese superando Fanti per il gol dell'1-1. La rete galvanizza la squadra di Papagni, che si butta in avanti alla ricerca del vantaggio, mancando due ghiotte occasioni. Al ventottesimo, infatti, Capellupo chiama Fanti ad una parata complicata, mentre due minuti dopo Isciba, a due passi dal portiere vezzanese, a fallire il gol del vantaggio. L'Avezzano ora soffre con i padroni di casa pericolosi anche al 34esimo con un tiro dello scatenato Stivaletta, parato dall'estremo marsicano. Il calcio è però strano perché nel momento migliore dei locali, al 36esimo Daniel Di Nicola, sugli sviluppi di un angolo dopo una respinta di Patania, segna il gol del 2-1 portando in vantaggio la sua formazione. Gioiscono i tifosi marsicani al seguito della squadra biancoverde, che poi con Bruni al 40esimo manca l'opportunità per chiudere la gara, che invece resta aperta, visto che al 45esimo Rossi a tu per tu con Patania fallisce ancora il 3-1. Nel recupero la vastese tenta il tutto per tutto, ma la diga marsicana regge con la squadra di Colavitto che porta a casa tre punti d'oro. Per la vastese un brutto colpo in vista del match di domenica prossima ad Agnone. Questo è il servizio sulla vittoria dell'Avezzano. Nell'altro derby, giocato a Notaresco, successo dell'altra formazione viaggiante, il Giulianova, che con i tre punti di ieri ha messo davvero una seria ipoteca sulla salvezza. Come dicevamo anche prima, basterà pareggiare con il Cesena domenica al Rubens Fadini per mettere in cassaforte la salvezza. Cesena a cui basterà allo stesso modo un punto per festeggiare la promozione in Serie C. Ma concentriamoci sulla gara di Notaresco. 2-1 il finale per i giallorossi. Non è mancata qualche polemica. Grande cornice di pubblico al Savini con tanti tifosi giallorossi. Al seguito Bolzan non è ancora fatta, c'è da lavorare, dice il tecnico Giuliese. Dall'altra parte De Angelis, il direttore sportivo della formazione del Notaresco. Gara decisa da episodi. Potevamo vincere Notaresco che non ha regalato nulla ai giallorossi. Allora andiamo a vedere il servizio sul successo della formazione del presidente Bartolini a Notaresco. Presidente Bartolini che tra l'altro è intervenuto ieri sera telefonicamente nel corso dell'Abruzzo del pallone, paventando anche un addio al termine della stagione. Ma vediamo quello che è successo ieri in campo. Una partita con tutti gli ingredienti per essere definita una gran bella partita. Notaresco Real Giulianova, grande cornice di pubblico in tribuna. Tre gol, episodi contestati e qualità complessiva di gioco elevata. Primo tempo meglio il Giulianova, secondo tempo il Notaresco. Alla fine la spuntata alla squadra di Bolzan che si prende tre punti fondamentali per la stagione con la salvezza diretta ormai ad un passo. Al Vincenzo Savini arbitra Matteo Centi di Viterbo. La cronaca alla prima occasione arriva solo dopo due minuti. Gori trova l'imbucata per Barlafante in campo oggi. Dal primo minuto l'uscita di Dostiglio evita il vantaggio giallorosso. Al sedicesimo Barlafante se ne va a destra, entra in area, palla verso la porta, respinge Dostiglio per due volte e poi pallone al limite. Gori prova con la sinistra e palla alta sulla traversa. Al diciottesimo il cross di Balducci ancora da destra. Torelli non arriva in tempo sul secondo palo. Al ventesimo si vede la squadra di Codini. Candelori mette palla morbida per Moretti destro. Pagliarini devia in angolo. Al venticinquesimo errore di Lennart. Cancelli apre per Moretti. Conclusione. Ancora attento il portiere giugliese. Al ventiottesimo la migliore occasione per i locali. Minnella solo davanti a Pagliarini che esce sui suoi piedi e compie un autentico miracolo. Sul ribaltamento di fronte Antonelli va col sinistro, respinge Dostiglio. Al trentaquattresimo il Giulianova trova il gol del vantaggio. Del grosso crossa da destra. La palla rimane in area. Torelli il più svolto a metterla dentro. Vantaggio per il Giulianova. Il secondo tempo si apre al secondo minuto con il tiro a giro di Moretti. Deve azione. Palla in corner. Al quarto risponde Di Paolo. Colpo di testa. Alto. Cresce il notaresco che trova il pareggio al ventunesimo. Palla in verticale per Candelori. Tocco di esterno. E pallone in rete. Uno a uno. Il Giulianova accusa un po' il colpo. Arretra il baricentro. Il notaresco prova il sorpasso più di una volta. Al ventottesimo contropiede Bontà prova la conclusione. Ancora Pagliarini. Palla fuori dall'area. Moretti va dalla distanza. La palla balla sulla traversa e finisce sul fondo. Al trentacinquesimo. Laringe appena entrato. Destro a giro dal vertice dell'area. Fuori di poco. Trentasettesimo. Cross ancora di Laringe. Cancelli di testa. Alto di pochissimo. Al trentanovesimo però il Real Giulianova trova il secondo gol di Paolo. Il più lesto in un'azione confusa. Partita dal cross del grosso. Dalla destra. La sua deviazione in porta per il nuovo vantaggio giallorosso tra le proteste dei giocatori del notaresco che vedono un fallo di mano. Prova a reagire la squadra di Cudini. Al quarantaquattresimo. Ancora un episodio contestato. Cancelli la mette dentro. L'arbitro però annulla per un fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero centi fischi alla fine giallorossi e rosso blu vanno sotto i rispettivi tifosi. Applausi e adrenalina. Real Giulianova ad un passo dalla salvezza. Notaresco fuori dai playoff ma con una grandissima stagione alle spalle che lascia a basi solidissime per il futuro. E fa festa anche il Pineto che blinda i playoff battendo per 2 a 1 la San Maurese. Recanatese ad un punto. Domenica gara difficile, difficilissima ad Avezzano per i ragazzi di Amaura. Andiamo a vedere il servizio realizzato per noi da Roberta Di Sante. Il Pineto batte la San Maurese, blinda i playoff e fa record di punti in classifica toccando quota 62 come mai nella sua storia. Tenere fede ai pronostici pre-gara però non è stato così semplice contro una San Maurese ben messa in campo da Mastro Nicola in una gara caratterizzata da diversi episodi. 4-2-3-1 per Amaolo che è costretto a rinunciare a Stefano Amadio schiera a centrocampo la coppia Camplone-Marianeschi con Tomassini e Sposito e Di Rocco alle spalle di Cruz riferimento avanzato. 4-4-2 per i Romagnoli con Rosini e Scarponi a dettare i tempi, Lovati e Lorenzo Lombardi sugli esterni e la coppia d'attacco di Hop Zuppardo. Il primo lampo al 19esimo è proprio degli ospiti che approcciano meglio la gara e sfiorano il vantaggio con Capitan Scarponi che di testa centra la traversa. La prima mezz'ora di gioco non regala tuttavia grandi emozioni, serve un episodio che arriva puntuale al 33esimo. Rosini viene a contatto in area con Tomassini e il direttore di gara Papale decreta la massima punizione dal dischetto. Pepe si conferma rigorista e di potenza sblocca il risultato piazzando la sfera sotto l'incrocio. Il Pineto potrebbe subito raddoppiare quando Cruz raccoglie la sponda di Tomassini controllo e grandestro del brasiliano che si stampa contro la traversa strappando applausi. Fortunato Cruz e anche il Pineto che sul contropiede successivo incassa la rete dell'1 a 1 Romagnolo con Lohati che raccoglie la corta respinta della difesa finalizzando un'azione rocambolesca e festeggiando come meglio non potrebbe i suoi vent'anni. Nella ripresa il Pineto torna in campo con maggior vigore e crea subito scompiglio al nono. Tomassini apre sulla destra per Esposito che però defilato spara alle stelle. Continua a premere la squadra di Amaulo. Al tredicesimo Marianeschi in area trova la testa di Cruz con la sfera che termina fuori di un niente. Al diciannovesimo rischia grosso di Hop che entra duro su massa. Solo giallo per lui tra le proteste bianca-azzurre. Proprio di Hop al ventisettesimo se ne va in contropiede con la San Maurese in superiorità numerica provvidenziale nell'occasione il recupero di Pietrantonio. Altro episodio d'Amo Viola al ventottesimo con la partita che si innervosisce. Rosini ferma così Ciarcelluti che stava per ripartire il direttore di gara fra proseguire tra le proteste furiose del Pineto con Marianeschi che viene ammonito nell'occasione. E proprio da un angolo di Marianeschi al trentaquattresimo scaturisce il colpo di testa che vale il 2 a 1. A staccare più in alto di tutti ancora il capitano Alfonso Pepe. Aiza si allunga e respinge ma la sfera ha già vartato la linea. E al quarantesimo il Pineto potrebbe siglare anche la terza rete con una gran bordata di massa che dà l'illusione del gol. La sfera è fuori di un soffio. Ma non è ancora finita bisogna soffrire fino alla fine. Al quarantasettesimo in pieno recupero un episodio che costa caro al Pineto. Con luttazione tra Diop e Pepe entrambi vanno a contatto. Il direttore di gara ferma il gioco ed estrae il rosso diretto all'indirizzo del capitano Bianca Azzurro tra i fischi del Magliani Pavone. Ultimo sussulto al cinquantesimo con Rosini che tenta la conclusione dal limite fuori bersaglio. Quando mancano soltanto 90 minuti al termine del campionato regolamentare il Pineto riesce così a far su all'ultima casalinga e a portarsi ad un solo punto dalla Re Canatese terza in attesa di far visita domenica prossima all'Alezzano. Fa festa anche il Francavilla. In Francavilla che passa per 1 a 0 e dunque di misura in casa dei molisani dell'Isernia. Racchini al novantunesimo attenti e concentrati. Playoff ad un passo per la formazione giallorossa. Andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione molisana. Lotta ai playoff e quella per non retrocedere. Si incontrano a Lancellotta. Isernia, Francavilla vale più di tre punti in palio. Quasi un'ultima chiamata per i bianco celesti. Orfani di Petitti e Barretta per squalifica. Terna guidata dal signor Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa per la cronaca. Un minuto e 35. Fazio scalda i motori su un calcio da fermo. Esecuzione perfetta altrettanto da applausi. Il riflesso di spacca. Immediato botta e risposta. Gallo in orizzontale per Ribeiro Dos Santos che calcia alto a tu per tu con Del Giudice. Da lì in poi gara con pochi spunti per riannotare un'azione. Deve trascorrere la mezz'ora. Ospiti pericolosi sugli sviluppi di un calcio ad angolo. Montagnoli la gira sul fondo. Isernia vicina all'avvantaggio. Volata solitaria di Romano che salta secco anche il portiere quando tutto sembra fatto per l'1-0. Palumbo salva il risultato. Prima dell'intervallo i locali chiedono un penalty per l'intervento scomposto con presunto fallo di mani. Di mele non segnalato dal direttore di gara. Squadra all'intervallo sul punteggio di 0-0 la regia di Antonio Masi per l'altra parte della sfida. Al quarto d'ora timido tentativo ospite con Ribeiro Dos Santos che da limite non arrega grossi disturbi a Del Giudice. Risposta pentra affidata alle noci che in area trova lo spazio per la conclusione ma spacca. Concede soltanto il calcio ad angolo al 27esimo. Si rinnova il bello tra Fazio e il portiere spacca. La distanza è proibitiva. Il playmaker inquadra comunque lo specchio della porta ma anche in questo caso nulla da fare. Alla mezz'ora arriva la beffa per Liserne. Proprio il nuovo entrato nel Francavilla. Fabrizi raccoglie la respinta corta di Del Giudice e di testa sposta il parziale sullo 0-1. Bruttatecola questa per i locali che rischiano la capitolazione concedendo una ripartenza a campo largo a Dos Santos che a Del Giudice è battuto. Manca il raddoppio per questione di centimetri. Nel finale Schiena chiede a gran voce un penalty dopo un contatto su di lui. Anche in questa circostanza nessun provvedimento estremo da parte della Terna. L'Ancellotta passa il Francavilla che consolida il quinto posto utile per gli spareggi promozione. Appeso ad un filo invece il destino dell'Iserne che a 90 minuti dalla fine del campionato corre addirittura il rischio di retrocedere senza neanche disputare il play-out decisiva in parte a questo punto. La trasferta di Matelica. Siamo quasi in chiusura, vediamo cosa è successo nel campionato regionale di promozione. Ecco qui la pagina inquadrata nel girone A. L'Angizia Luco batte il Moro d'Oro per 2-1 e torna in eccellenza dopo dieci anni. Vediamo le altre partite. Castelnuovo-Santomero 9-3. Risultato dir poco tennistico in questa gara e poi Nuova Sant'Egidiese-Realatria 6-0. Mosciano-Borgo-Santa Maria 4-0. Fontanelle-Rosetana 0-0. Mutignano-Sportland-Celano 2-0. Montori 88-San Gregorio 2-1. Torni in parte Pucetta 4-3. Piano della Lente-Tossicia 3-1. Vediamo il girone B. Il Lanciano già promosso non lascia nulla. Bagigalupo-KO in dolore. Bagigalupo-Vasto. Lanciano 0-1. Casal-Bordino-Fater-Angelini-Pescara 4-1. Ortona-Scafa 3-0. Passo Cordone-Ovidiana-Sulmona 0-1. Fossacesia-Valdisangro 1-0. Raiano-Casolana 1-2. Villa 2015-Sant'Anna 1-2. Piazzano-Sansalvo 2-0. River Chieti-Bucchianico 2-0. Lasciamo definitivamente la pagina del calcio per parlare di basket e dell'impresa di Roseto che passa per 73-75 sul parchè del Treviglio Person Show. Il play degli Sharks realizza il canestro decisivo a 4 secondi dalla fine. Poi ci sarà ovviamente la gara di ritorno da giocare in terra abruzzese. Coach d'Arcangeli dice grande prova. Avanti così in Serie B. Nei play-off il Chieti batte la Luis Roma 81-55. Parte con il piede giusto. Nei play-out vince Teramo con Campli 70-68. Vittoria negli ultimi istanti di partita per i Teramani. Parte male invece l'amatori Pescara che perde in casa con la Viola Reggio Calabria per 71-67. Vediamo anche la Serie C Gold con la vittoria di Maggi Chieti sul Pesaro per 73-56. E poi invece nel campionato di Cisilver Teramo-Orvieto 78-52. Termoli-Fermignano 82-42. Recanati-Nuovo Basket Aquilano 84-60. Basket Todi-Torrespes 76-65. Chiudiamo con il rugby e con la festa dell'Aquila che fa l'impresa. Batte la Capitolina per 39-24 e conquista la permanenza in Serie A nei minuti finali. Pattuglia, man of the match della gara, dice dedico questa salvezza ai ragazzi più giovani. Paganica invece in Serie B sconfitto a Catania. Lavezzano supera Frascati. È tutto per l'appuntamento di oggi con Mattino 6, il primo della settimana. Grazie a Claudio Di Giacomo e Loris Bennato in regia. Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo alle 14 la prima edizione del TG6. Questa sera alle 21 in diretta dei nostri studi. Come sempre replay con Enrico Rocchi per parlare delle vicende del Pescara. È davvero tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.